Giuseppe Colombo, Metcarts Manufacturing. Grazie a te con questa proposizione per KZ2. Parli con noi sulla tua sessione di qualificazione di oggi. Sì, abbiamo lavorato molto per arrivare a questo risultato. Finalmente è arrivato un bellissimo risultato. Non me l'aspettavo di fare così tanta differenza rispetto ai miei avversari. È stata una qualifica perfetta, non me l'aspettavo. Come sono le emozioni di questa settimana, sapendo che sei un'opposizione delle campeonato europee nel tuo circuito home in Europa? Sì, il mio circuito di casa. È ancora più emozionante fare la pole qui. Come ho detto prima, non me l'aspettavo, ma abbiamo visto già dalle prove libere che il materiale e i motori funzionavano. Abbiamo fatto una qualifica perfetta. Di questo devo ringraziare VT Racing per i motori e la Croc Promotion per tutto. Sì, abbiamo un gran vantaggio visto che noi partiamo davanti e tutti gli altri che mi sono davanti nel campionato partono dietro. Vedremo domani cosa succederà nelle manche, ma diciamo che siamo avvantaggiati anche perché siamo molto più veloci degli altri. vedremo domani cosa succederà. Grazie mille Giuseppe. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.